Ehi, Spongebob! Spongebob! Che strano, lui non è mai in ritardo. Di solito si alza presto per frugare nei secchi della spazzatura di Squiddy. Oh beh, immagino che sono io a prendere il comando del Krusty Krab per oggi. Mi divertirò un sacco! Me ne andrò presto. E mi scuso fin da ora per la franchezza. L'universo cresce sempre meno ogni giorno che passa. Sto guardando la televisione da 20 ore di fila. Sta diventando troppo. Come faccio ad essere ancora vivo? Sono solo una spugna per amor del cielo. Almeno Patrick si presume che sia una vera creatura marina vivente. Che credo. Devo andare ora! Ehi, la? Ehi, la? Mi sa che ho sbagliato strada all'ultima meteora. Spongebob, ragazzo mio, perché non sei al lavoro? Il Krusty Krab è andato a fuoco. Non l'hai sentito? Aspetta, cosa? Mi stai dicendo che tutti i miei soldi sono andati in fumo? Torna subito, amicchini Boptum e vieni di rimediare. Sciocca spugna che non sei altro! Nome? Spongebob Squarepants. Età? 29 anni. Posizione? Sconosciuta. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito mettete un bel pollicciazzo su e fateci sapere qui sotto per carità che cosa voglia dire questo video, per favore. Vi invitiamo come sempre a condividere il video su tutti i vari social e ad iscrivervi al canale YouTube oltre che a quello Telegram per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Ah, e passate anche da Instagram per vedere qualche foto arriverà! E ora passiamo ai salumi. Allora, io ci tenevo a salutare un mio fan, Riccardo Pancotto! Ciao Riccardo! Non ascoltare Car, che è un delinquente! Caaaaaa! Ciao ragazzi, io ci tenevo tanto a salutare Lorenzo Licari! Ciao, spero che tu continui a seguirmi su Deep Space! Oh, ehi! Io ci tenevo tanto a salutare Settebello Channel! Sembra quasi un canale di preservativi! Ahahahah! Oh, ehi! Vuoi venire nel mio drago di carne? Ti aggiungo, non c'è problema! Ahahahah! Ciao! Ciao!